Musica Posso dire una penola? E no! Sono Giulio, frequento il liceo Bershè di Milano, liceo classico. È una commedia plautina perché ha funzionato per un motivo davvero semplice, perché il pubblico ha riso. E perché è questo plauto, sostanzialmente. Quando uno pensa alla letteratura antica, immagina chissà quale tono aureo, quale seriosità. Mentre plauto è tutt'altro, plauto è frezzante, plauto è una comicità spiccia e funziona. Guarda un po' là! Che è? È la concubina del padrone! E da cosa l'hai riconosciuta? Dalla pagina. È utile perché ci dà un'immagine di quello che era plauto al tempo. Non dandoci il plauto originale, riesce a darci quello che era plauto in origine. E fino a che non lo vedi, vedi il tuo libro di testo. Ecco, plauto non è per stare sul libro di testa. Per ottenere ciò che si desidera, a volte si è disposti a far di tutto. Se poi è l'oggetto del desiderio, è una bellissima ragazza, non c'è rapporto familiare che tenga. Inga. 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 Tradimenti. Tradimenti. Visate. 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 Tutto in un'unica grande opera. Calidoro. Pseudolus. venici. Enyorsunia. Ingenia. Titomaccio Plauttu. Visate. Pseudolus